Le interviste di Professione Reporter. Approfondimenti, dibattiti, confronti. In studio, Marco Antonini. Bentornati in redazione da Marco Antonini. Ci ha raggiunto in studio il sindaco di Fabriano, Giancarlo Sagramola. Per un nuovo approfondimento parliamo del progetto Home Car Premium 2012. Facciamo il tifo per te. Benvenuto, sindaco. Grazie. Saluto tutti gli ascoltatori e voi della radio. Allora, perché un progetto così, che ha un titolo originale, facciamo il tifo per te? Beh, intanto perché questo progetto si rivolge alle persone che sono in difficoltà e il senso è che si sta vicino alle persone che sono in difficoltà. Questo progetto nasce dall'IMPDAP nazionale. Noi abbiamo vinto il bando e nelle Marche tutti e 13 gli ambiti territoriali hanno vinto il bando del progetto. La cosa è importante perché sono 500 mila euro di sostegno diretto alle persone che hanno un congiunto o sono direttamente ex dipendenti della gestione pensionistica dell'IMPDAP. E quindi sono, per esempio, forze dell'ordine, dipendenti comunali, dipendenti dell'Asur, province, insegnanti. E questo è importante perché noi sosteniamo queste persone in difficoltà, ma ancora di più perché ci consente, uno, di dare un po' di lavoro. Ulteriore nel campo sociale che è sempre utile e significativo. Ma in seconda cosa ci consente un po' di sgravare il peso di alcune assistenze dalle nostre casse, diciamo così, a quelle dell'IMPDAP. Sindaco, ma nel dettaglio che cosa offre questo progetto? Intanto, se posso dire, il 30 scade il termine per le domande. Il 30 settembre abbiamo raggiunto già i numeri, ma se ci sono altre persone è sempre bene che facciano domanda, si presentino agli uffici, negli uffici dei cinque comuni dell'ambito, quindi Serra Sanquirico, Sassoferrato, Genga, Cerreto Desi e Fabriano. Ci sono operatori pronti e disponibili a dare ulteriori informazioni su questo progetto. E quindi la domanda che scade il 30 è importante perché chi avesse, magari all'ultimo momento, si accorge di essere nelle condizioni, vada a prendere informazioni negli uffici. Perché questo progetto in particolare può permettere di avere un contributo per l'ingresso nei centri di urno, il contributo per i servizi di accompagnamento e trasporto, per integrare le quote di pagamento, per integrare anche oppure assumere delle persone con voucher che prestino ulteriore assistenza oltre a quella che già si ha. e poi per gli ausili che uno è costretto a comprare a causa della sua situazione di difficoltà o di disabilità. Chiaramente deve essere un soggetto che ha una disabilità conclamata. Poi stiamo facendo una cosa molto interessante, questa è un'evoluzione del progetto che penso potrà andare in porto verso gennaio. Fabriano si è preso l'onere di coordinare un progetto, sempre a fondi aggiuntivi, sulla domotica. poter fare in modo che le persone che sono a casa entrino direttamente in contatto tramite Skype o tramite i sistemi elettronici con il medico di base e possano essere anche, con questi sistemi elettronici, possa essere misurata la pressione, la temperatura corporea e altri tipi di attività diagnostica che possono essere fatti a casa da una OS o da un infermiere o da chiunque e i dati mandati periodicamente al medico di base. Ciò consentirebbe al medico di avere sempre sotto controllo la situazione del paziente, immediatamente senza dover andare a casa più spesso. Ciò ci consentirebbe di avere veramente un quadro clinico delle persone che vengono assistite di notevole importanza, utilizzando tutti gli strumenti che oggi l'informatica, l'elettronica ci mette a disposizione. Sarebbe un po' una app nuova. Quindi un investimento importante dal punto di vista sociale in un periodo di crisi che comunque toglie diversi contributi, soprattutto dallo Stato al Comune. Sì, noi ci troviamo in difficoltà proprio in questo campo, nel campo dei trasferimenti ordinari. Per questo stiamo cercando di attivare tutti i trasferimenti, sia in campo turistico, culturale, o dei lavori pubblici o, in questo caso, del sociale, che vengono da altri organismi e lo Stato. Perché le risorse, come dico sempre io, ci sono, il problema è saperle trovare. Poi è chiaro che non sono per tutte le fasce della popolazione. A volte, come questa, sono destinate a una fascia particolare della popolazione. Ma questo ci consente di utilizzare poi le risorse che abbiamo per le altre persone che rimangono fuori. Si tratta di non duplicare gli interventi, che ognuno abbia un po', in modo che tutti, possiamo avere tutte le persone in difficoltà, possano rientrare dentro un progetto di assistenza. Quindi ricordiamo, c'è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda per questo progetto Home Car Premium 2012, facciamo il tifo per te, andando in uno degli sportelli dei comuni dell'ambito territoriale numero 10. Perfetto. Aggiornamenti e approfondimenti nel blog. Seguiremo questo importante evento di carattere sociale che interessa il nostro comune e non solo. Grazie al sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola. Buonasera a tutti e recatevi negli uffici, anche se fosse solo per informazioni. E buon proseguimento su Radio Gold. Le interviste di Professione Reporter. Approfondimenti, dibattiti, confronti. In studio, Marco Antonino.